Lettori di F1 in generale punto com e ascoltatori di F1 in podcast benvenuti dopo la puntata di ieri dedicata al Gran Premio del Bahrain adesso ci troviamo nuovamente nella giornata di lunedì perché abbiamo come potete ben vedere un ospite che sicuramente avete sentito se seguite i weekend di Formula 1 che in realtà possiamo dire che è la nostra vecchia conoscenza del sito quindi se seguita F1 in generale punto com avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando Federico Albano benvenuto ciao buonasera a tutti come abbiamo detto qua siamo per fare una chiacchierata con una nostra vecchia conoscenza che abbiamo il piacere di avere qua e per fare questo c'è con me Giuseppe Cinotti ciao Giuseppe un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori il nostro esperto di tecnica Matteo Quattrocchi ciao Matteo esperto di tecnica oggi ne sentiremo davvero parlare ma come si deve quindi avremo modo di scoprire tanti tanti dati abbiamo tante domande da fare a Federico è un piacere essere qua con voi poi abbiamo anche una delle colonne portanti del F1 in generale Davide Galli ciao Davide ciao ciao a tutti come ho detto prima siamo qua per insomma fare una chiacchierata con Federico al quale vorrei chiedere innanzitutto un breve commento sulla gara di ieri se è un'impressione insomma così molto semplice su quello che hai vissuto non solo per l'incidente ma anche come sensazione da un punto di vista tecnico ieri abbiamo parlato del fatto che le gomme avesse delle performance molto molto simili indipendentemente dalla mescola tu che idea ti sei fatto? ma eh anzitutto buonasera a tutti diciamo guardando la gara di ieri anche seguendo i dati eh l'impressione che da padrone eh comunque l'hanno fatta le gomme la gestione delle gomme stessa eh tanto per entrare subito nel vivo vi dico che eh in diretta mi sono accorto che eh Lewis Hamilton era quello che aveva le velocità nei rettilinei più bassi di tutti per tutta la gara eh al contrario delle velocità in curva e questo dà l'idea di quanto carico avesse la Mercedes questo weekend proprio in ottica di gestione gomme e infatti ha fatto quello che voleva per cui l'impressione è che eh quella di ieri sia stata una gara che è andata a confermare tanto di quello che abbiamo visto in stagione cioè la Mercedes che domina una Red Bull non così lontana perché la Mercedes ha dominato a metà e perché Bottas io scherzando ho detto che era più sgonfio delle sue gomme ieri per cui non è che spingesse molto eh però eh non è che abbia fatto questa rimonta brillante o pazzesca per cui ha dominato a metà con una Red Bull che eh mi aspettavo che fosse anche un filo più lontana eh dal punto di vista Ferrari era un disastro ma almeno secondo me era un disastro annunciato nel senso che una pista cioè la Turchia era l'ultimo appello dove si poteva vedere secondo me qualcosa di buono adesso arrivano tre piste cioè una è già passata le prossime le prossime due che eh sarà difficile che vedere qualcosa di brillante la Ferrari eh funziona molto bene con carico medio-alto anzi più alto che medio eh in Bahrain bisogna scaricare un po' per i rettilinei e comincia a smettere di funzionare dal punto di vista gestione gomme eh e in più non ha la potenza e il rettilineo per per cercare di di arginare un po' il problema per cui insomma difesa totale sopravvivenza proprio la gara è un po' tutta quanta la stagione mettiamola così eh sì sicuramente sicuramente parlando proprio di motore so che Matteo ha qualcosa da dire giusto? ah beh giustamente la domanda l'ha detto anche adesso appunto Federico che ehm se non proprio nelle piste ad alto ad alto carico aerodinamico la Ferrari eh fa davvero fatica quest'anno perso e soprattutto a causa del forte deficit di motore che non permette di generare sufficiente downforce quando si va a scaricare la vettura ma secondo te è più da esperto che hai modo di guardare anche più i dati e anche poi appunto ci racconterai bene bene perché la prossima domanda era di cosa ti occupi te per far sapere magari a quelli meno attenti eh in un weekend di gara cosa che dati studi ecco ma la vera domanda che volevo iniziarti a fare era se è vero che c'è un divario così grande tra il motore Mercedes e quello Ferrari se è vero quello che si diceva che è su una stima di 50 cavalli perché abbiamo sentito tanto in merito eh guarda io ho fatto un'analisi dei dati eh dopo le prime gare e veniva anche a me una cifra di quel genere lì insomma intorno a una cinquantina di cavalli 30-40 però abbondanti per cui sono più vicino ai 50 che ai 40 eh poi ovviamente le cose sono evolute ma lo stesso Binotto ha parlato di una cinquantina di cavalli per colmare il gap da Mercedes eh consigli beh diciamo che nelle vetture moderne eh nelle vetture attuali di Formula 1 eh è tutto portato all'estremo perché hai una downforce cioè un carico aerodinamico esagerato eh che però genera anche tantissima resistenza per cui devi avere anche un motore esagerato è tutto spinto al massimo no? per cui hai tanto carico aerodinamico ma per farlo funzionare hai bisogno anche di tanta potenza e hai bisogno di entrambi non puoi avere cioè non ti basta uno dei due esatto in questo momento Ferrari eh diciamo che per generare ha anche un problema che è quello dell'efficienza e cioè l'efficienza è quando eh tu riesci a generare carico senza generare la contropartita in resistenza all'avanzamento eh o quantomeno minimizzandola e la Ferrari per generare carico va incontro a una resistenza molto alta al contrario di Mercedes che riesce che riesce sempre a diciamo anche a caricare la vettura senza essere così più lenta in rettilineo senza avere grossi problemi di efficienza per cui sì la stima dei 50 cavalli eh mi sembra verosimile ed è per la Formula 1 del 2020 è una enormità cioè eh l'anno scorso eravamo a fare le pulci sui 15 cavalli eh per dire questo a 15 cavalli in più guadagna un decimo nel terzo settore nel primo settore quest'anno stiamo parlando di un gap di 50 cavalli che è una categoria di differenza è una cosa enorme esatto per quanto riguarda quello che faccio io che inchiedevi allora io eh eh diciamo misi quando ancora collaboravo con voi ragazzi di F1 in generale misi appunto un un al tempo rudimentale che si è evoluto nel tempo un sistema di elaborazione di dati telemetrici di acquisizione elaborazione di dati telemetrici e eh produco analisi eh tecniche di questi dati produco i dati grafici e le analisi relative per eh Sky che vanno in diretta da praticamente adesso detta in parole povere la gran parte dei numeri che sentite dire a Matteo Bobbi dallo 0-100 in partenza alla top speed in rettilineo ai 10 km all'ora ai 5 km in curva al distacco chilometri insomma tutto un po' tutto quel pacchetto di numeri lì gli arriva gli arriva gli fornisco glielo fornisco io oltre a fare analisi tecniche scrivo per il sito di Formula Passion dove pubblico appunto queste analisi questi grafici ehm questo è poi c'è tutto una ovviamente il lavoro si divide in eh diciamo parte dal vivo parte fresca per cui il grafico della giornata il grafico dal vivo l'analisi dei dati di quel giorno lì fino a poi a prendere il pacchetto dati rielaborarlo e tirare fuori ad esempio come dicevi tu la potenza che è una cosa che non è proprio banale e ci vuole ci vuole un bel po' un amore di dati non indifferenti oppure oppure adesso tanto per fare una battuta quando sono tornato dai test di Barcellona quando sono finiti i test ho rischiato di divorziare perché era tre giorni quando uscivo dal mio studio per riuscire a tirare fuori l'analisi finale sì sì faccio l'analisi e arrivo ma era una quantità di dati tale che era facevano 120 giri al giorno per cui ero effettivamente erano in due a questo punto abbiamo un altro allora di ospite che era a Barcellona se non ricordo male vero Davide quella quella pittorina che si vede lì dietro dove l'hai presa lì dietro lì dietro lì dietro quella è la settimana dopo Federico è andato la settimana prima quindi ci siamo dati il cambio l'antipasto esatto ci siamo dati il cambio ma Federico ti chiederei io una cosa sempre come curiosità è andato al tuo lavoro l'idea come 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 sei arrivata diciamo hai un racconto stile un po' Helmut Brown e Ritorno al Futuro quando ho preso la craniata in bagno e gli è venuta l'idea c'è qualcosa di simile anche per te oppure una mela qualcosa ma diciamo che i dati la telemetria tutte queste cose qua sono il mantra diciamo la cosa più importante quella che perché ti fa capire ed era un po' che io io avevo iniziato facendo l'analisi l'analisi dei tempi ma mi mancava avevo voglia di andare di andare un po' oltre per cui a suon di insomma di pensare a come a come poter fare alla fine è nato questo primo rudimentalissimo software tanto che avevo paginate scritte con le mani tutti appunti presi a mano c'è una cosa abbastanza complicata file excel uno sopra l'altro il coding vecchia scuola quello su voglio carta e penna esatto praticamente mi dava fuori cinque numeri e cercavo di metterli su excel più velocemente che potevo poi insomma da lì ecco da lì da cosa nasce cosa ecco tanto per dire l'ultimo non so se avete visto in questo questo weekend sono uscite queste grafiche durante le qualifiche durante le prove dell'analisi della singola curva che è uno step che mi ha chiesto non è che mi ha chiesto nel senso mi ha proposto mi ha proposto Matteo Bobbi parlandone così lì per lì ho detto vabbè perché lui mi fa hai visto che è bello che ogni tanto lo fa anche AWS per Formula 1 e ho detto sì però loro sono AWS che potenza di calcolo non hanno però poi mi sono fatto un po' diciamo mi sono fatto un po' invogliare e ho passato una settimana intensa di lavoro per vedere se riusciva ed è uscito fuori che insomma c'è ancora un pochino da perfezionare ma ha una base solida di questo di questo tool che ha anche il vantaggio l'ho impostato per essere il più veloce possibile anche diciamo dal vivo per cui riesco a mandargli cioè fai conto che sabato in qualifica quando prendevo curva 10 riuscivo a mandargli il grafico prima che il pilota avesse finito il giro e andavi a indovinare a che velocità avrebbe affrontato la curva neanche Hamilton sapeva quanto appena passava riuscivo a prepararlo proprio appena appena il pilota passava di lì per cui adesso e tra l'altro devo dire che ovviamente come tutte come quando si parla di tecnologia mi è stata messa una sticella io sono arrivato lì adesso mi si è aperto un po' un mondo perché ho dovuto imparare a fare un po' di cose per riuscire ad avere questi automatismi e ora stavo proprio lavorando per rivoluzionare un po' alcuni sistemi che uso per renderli più veloci per renderli un po' più un po' più agevoli anche perché devo dire la verità tanto per chiacchierare il primo anno insomma noi siamo in Italia la Ferrari è sempre la Ferrari non è che puoi non analizzarla il primo anno alla fine finita la qualifica Ferrari Mercedes un grafico usciva insomma non è che era se ne faceva uno oggi c'è Mercedes Red Bull Ferrari McLaren Racing Point per cui diventa diventata con la fatta che la Ferrari va male si è moltiplicata la mona di lavoro è un tutti con tutti grafici di tutti con tutti ho cominciato a rendermi conto che è il caso di riorganizzare dopo che tutti i venerdì e tutti i sabati finisco alle 9 le 10 di sera ho capito che è il momento di riorganizzare un attimo il sistema per automatizzare di più i processi giusto con evitare i divorzi esatto 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 ma intanto facciamo vedere un po' a chi ci segue di cosa parliamo che magari molti non hanno idea vediamo se riesco a mettere a fuoco senza evitare la condivisione ecco parliamo di queste delle telemetrie le famigurate telemetrie in cui è possibile essenzialmente analizzandole ma basta un colpo d'occhio capire bene le velocità massime raggiunte in curva dal pilota e la velocità no minima raggiunta in curva e la velocità massima raggiunta in rettilineo quindi sono grafici molto interessanti che tra l'altro trovate sulla sua pagina Instagram vi consiglio di seguirla Federico Albano Punto 83 quindi andate a farci a farci un salto intanto vorrei fare magari una domanda che ci arriva proprio da Facebook da alcuni ragazzi che ci seguono ci chiedono essenzialmente magari una tua opinione su come su che passo avanti possa diciamo ingegneristicamente effettuare la Ferrari nel concreto la punta di vista motore si chiacchiera tanto delle varie tecnologie ma io aggiungerei alla domanda di Francesco Galipò concretamente con un motore poniamo magari se riuscissimo a montare un motore a livello di quello Mercedes sulla SF1000 attuale più o meno diciamo a naso in base alle tue analisi che performance uscirebbero quindi che prospettive ci possono essere per l'anno prossimo con un motore più rinnovato allora facciamo una prima distinzione io non credo che il motore rinnovato sia uguale in potenza al motore Mercedes per cui se oggi sulla SF1000 montassero un motore Mercedes io credo che in alcune gare potrebbe giocarsi la seconda forza in maniera abbastanza tranquilla però non a livello di giocarsi il campionato sarebbe verosimilmente una terza forza comoda spesso in lotta con Red Bull questa è l'idea che mi sono fatta io se aumentassimo molto la potenza perché la SF1000 ha anche proprio una serie di problemi congeniti dal punto di vista della gestione gomme dal punto di vista del pacchetto sospensivo in generale poi ci torniamo anche dopo io credo che è una posizione un po' particolare la mia però in ottica futura potrebbe non essere stato così terribile avere questa stagione questo anno orribile della Ferrari perché togliendo la potenza ha fatto emergere gli altri problemi che prima si nascondevano con tutti i cavalli e per cui ha costretto la squadra a lavorare lì se poi riesci a rimettere la potenza in macchina ma hai risolto gli altri problemi allora stai su una strada di un pacchetto che può diventare molto vincente o comunque molto forte come termine di passo avanti beh io credo non ho nessuna informazione per cui parlo per opinioni però io credo che il problema che c'è stato con con l'accordo segreto Ferrari eccetera eccetera Ferrari FIA abbia un po' colto di sorpresa in qualche modo la squadra e per cui quello che vediamo sia una power unit un po' ai minimi termini cioè che un po' peggio di così è difficile che esca io credo che ci si possa aspettare un passo avanti promettente per l'anno prossimo chiaramente sai i salti di qualità costano tanto in termini di ricerca oggi che le power unit sono questi gioielli perché le power unit non è che sono un grande fan dal punto di vista della tecnologia della scelta della power unit per la formula 1 ma sono gioielli tecnologici per cui le power unit hanno rendimenti altissimi ma sono estremamente difficili da far evolvere per cui non è che mi aspetto che la Ferrari l'anno prossimo abbia 90 cavalli in più ecco questo no sarebbe probabilmente verosimile andando totalmente a spanne ma un 30 35 cavalli in 40 cavalli in più massimo per avvicinarsi al gap certo poi gli altri faranno i loro step non è che gli altri aspetteranno aspetteranno la Ferrari poi come sempre chi è il più indietro è quello che ha la possibilità di fare il passo avanti più lungo di tutti però insomma diciamo che io come proprio feeling vedendo mi aspetto una Ferrari l'anno prossimo che sia una comoda terza forza talvolta in lotta con con Red Bull per fare la seconda forza a seconda dei circuiti dei tracciati eccetera eccetera Mercedes è Mercedes solo con l'auto in pista si può capire il loro potenziale perché sulla carta sembra facile poter arrivare dove sono arrivati loro ma poi superarli anche loro ogni anno portano avanti lo sviluppo ma abbiamo visto quest'anno la W1 cioè l'anno scorso è finita la stagione e insomma si pensava un po' tutti che la vettura la W10 fosse un po' arrivata le gomme poi quest'anno rimanevano le solite cioè sì doveva migliorare un po' l'efficienza aerodinamica perché faceva fatica quando la Ferrari andava forte nei rettilinei per cui dici prenderà due o tre decimi guadagnando lì invece questi hanno fatto un salto di un secondo pass con una macchina che hanno completamente rivoluzionato nel retrotreno nel con Shell il DAS si sono inventati scelte sempre veramente non mollano mai si è visto anche questo weekend come il venerdì mattina tutti ho preso le distanze dei dati Verstappen ha fatto 50 km in FP1 le Ferrari tra 100 120 e le due Mercedes quasi tutti con le gomme 2021 sono gli unici che hanno fatto più di 200 km per cui loro vanno avanti non si fermano e infatti proprio parlando anche di questo del loro sviluppo secondo te ti aspetti dei possibili nuovi aggiornamenti innovativi proprio come il DAS che dalla prossima stagione potrebbero essere introdotti secondo te anche guardando i dati c'è qualcosa che secondo te Mercedes può davvero ancora dire su questa parte della vettura possiamo migliorare ancora ma allora io credo che quest'anno sia uscito a un certo punto della stagione un limite allora cerco di fare un minimo di viaggio per spiegare il ragionamento nel 2019 si è capito che quelle gomme a un certo punto cercando di iper semplificare chiaramente più davi carico aerodinamico più funzionavano queste gomme qua più erano riuscivano a rimanere nella finestra di temperatura e la W10 va a tantissimo carico e di solito è così nel senso che più dai carico aerodinamico meno la gomma slitta diciamo struscia sull'asfalto per dirla pedestramente per cui riesce a gestire l'energia nella gomma parte dall'interno e non dalla superficie per cui funziona ecco c'è stato un momento dopo l'estate ma già abbiamo visto a Silverstone quando Hamilton è arrivato su tutte le ruote con le forature dove c'è stata un po' la percezione che fossero arrivati al limite cioè che la W11 andasse di più di quello che le gomme potevano sostenere e questo ha fatto sì che abbiamo visto in una serie di gare a partire dalla Russia una Mercedes molto scarica aerodinamicamente e lì si è visto imprevedente il gap di motore perché prima loro tendenzialmente loro andavano come gli altri in rettilineo e facevano 10 km l'ora più in curva adesso dico numeri per dare l'idea esempio esatto poi improvvisamente andavano come gli altri in curva ma facevano 10 km l'ora più in rettilineo io continuavo mi ricordo al Gran Pio di Russia continuavo a mandare un saggio a Bobby a dire ma guarda che questi in rettilineo fanno tutti non lo vedo mai nel passo gara una differenza di 10 km l'ora e io lo stavo dicendo e si è aperto in radio Max Verstappen e gli hanno detto dalla squadra Max stai perdendo 7 decimi solo nei dritti proprio a conferma di quello che stavo vedendo anch'io e questa è stata una linea che è andata avanti per un po' si è interrotta questo weekend questo weekend hanno di nuovo dato tanto carico perché la pista era particolarmente severa dal punto di vista termico dal punto di vista dell'asfalto insomma era una pista una pista un pochino diversa dalle altre per cui hanno di nuovo caricato la macchina questo weekend come non si vedeva per cui io credo che il punto vero dove innovazioni diciamo come il DAS non ho idea se ci sono altre zone così particolari del regolamento ci vuole della fantasia a pensare che il volante si può muovere anche avanti e indietro esatto esatto proprio quello non lo so Ellison cosa è in tasca però se mi dicessi il limite che in questo momento ha alla Mercedes è proprio questo quello di andare di più di quello che le gomme riescono a sostenere e potrebbe essere il motivo per cui hanno lavorato così tanto l'altro giorno con le gomme 2021 per riuscire a trovare la quadra subito anche da quel punto di vista Federico io volevo chiederti girandoti anche la domanda di un appassionato che ci scrive Giuseppe Barone ci scrive pensate che ci siano altre novità tipo il DAS anche sulla Ferrari oppure già siamo proiettati a 2022 per i regolamenti e poi io volevo aggiungere se secondo te ci sarà un livellamento delle prestazioni nel 2022 a questo punto visto che Domenicali ultimamente pare che voleva andare in quella direzione se letto tra le righe non è che era sicuro al 100% tu cosa quindi ne pensi del 2022? Ah del 2022 penso che la strada scelta sia corretta nel senso che a diminuire il livello di carico delle vetture può produrre solo dei benefici in termini di spettacolo le macchine possono seguirsi più da vicino si è visto quando è mancato è stato tolta l'aerodinamica in Turchia che bella gara è venuto fuori insomma si capisce che la strada probabilmente è corretta dal punto di vista del livello ecco il cambio di regolamento prevede sempre un'incognita che se a un certo punto uno la zecca tanto per dirla in maniera grezza fa un salto in avanti che gli altri devono rincorrere per un po' questo è un rischio però voglio dire siamo anche in una situazione devo dire che era difficile prevedere perché la Formula 1 e questo è una riflessione che ho fatto anche a inizio stagione cioè quando è venuta fuori l'idea di congelare le vetture 2020 2021 lì per lì non sembrava così una fesseria come poi si sta un po' dimostrando al di là del problema costi perché perché quando tu sei alla fine di un ciclo tecnico di regolamento più o meno le prestazioni dovrebbero essersi livellate perché man mano arrivano tutti a livello massimo a suon di evolvere il più veloce riesce a evolvere poco gli altri invece riescono man mano ad avvicinarsi per cui ci si aspettava a tutti che due anni molto battagliati no perché ormai il ciclo tecnico è alla fine per cui insomma congeli lì saranno tutti a limite invece poi hai trovato insomma questo si vede nel midfield come adesso è allineato ogni domenica a seconda della pista puoi fare Perez secondo ultimo a seconda veramente di come girano le cose sono solo i top che hanno veramente mette ancora un altro passo per cui il 2022 io mi aspetto che ci sia qualcuno che apparta in vantaggio chi sia con il regolamento si trova sicuramente io mi aspetto di sì sicuramente sicuramente però prego l'ha trovato magari la Ferrari con il motore super fast da sviluppare pure nel 2022 di cui dall'altro ha parlato Matteo nell'articolo che è uscito qualche tempo fa qualche giorno fa esatto proprio quello di questo weekend abbiamo parlato anche apertamente ieri ci siamo annotati appunto questa domanda da fare a Federico che sicuramente ha numeri a modo molto più concreto di verificare questi nostri dubbi e anche darci qualche spunto in più appunto sul futuro ma adesso è venuta fuori anche questo discorso dei congelamenti dei motori eccetera diciamo che allora su la cosa una cosa buona secondo me nel 2022 è che il pilota potrebbe fare una differenza ancora maggiore di oggi non che oggi non la faccia perché lo vedi perché oggi siamo quest'anno è un anno particolare perché ha sconfessato un po' di cose perché abbiamo detto che queste vetture ormai il pilota non fa la differenza ma guarda Hamilton Bottas guarda Verstappen Albon guarda anche Vettel Leclerc quando quando poi adesso si è un pochino ripreso Sebastian Vettel ma ha avuto una parte centrale di stagione difficilissima per cui poi il pilota però secondo me con la regola 2022 conterà ancora di più e questo è un bene voglio dire per lo spettacolo anche se il mezzo tecnico deve comunque contare perché se no la formola non serve più a niente potremmo correre con il pilota diciamo che quindi il 2022 ci sarà questo aspetto il motore conterà tantissimo io spero che insomma per la Ferrari ovviamente da italiano siamo tutti ferraristi almeno io lo sono spero che trovi che si trovi una quadra con la potenza è stato per anni il punto di forza della Ferrari il primo anno dell'era Power Unit aveva recuperato a Mercedes quasi 90 cavalli dopo che era venuto fuori dopo che era partita malissimo nel 2014 l'anno nel 2018 c'era anche tutta la parte ibrida che si vedeva proprio anche questa gestione unica che aveva la Ferrari dalla potenza in rettilineo quello che si chiama clipping e cioè quando finisce l'energia elettrica a disposizione e la velocità in rettilineo comincia a diminuire invece che continuare ad aumentare nonostante il pilota rimanga full gas beh è una strategia che Ferrari adottava cioè non era solo un effetto negativo l'anno scorso era una cosa che faceva volontariamente perché nell'arco di un rettilineo la parte più importante quella che si chiama time sensitive cioè quella che è più che dà un miglior risultato sul tempo sul giro è la parte iniziale quella in trazione per cui Ferrari concentrava in trazione tanto di più la potenza e poi gli mancava la fine ma non ne risentiva sul tempo sul giro e questo aveva un effetto esplosivo e si è visto insomma nelle gare sulle piste veloci no? Monza Spa eccetera eccetera per cui si spera poi quello che è successo segretamente noi non lo possiamo sapere ecco Federico scusami poi lascio lavorare gli altri ma se io prendo la power unit 2020 e la metto sulla vettura 2000 cioè scusami la power unit 2019 la metto sulla vettura 2020 ecco perché mi sto preoccupando cioè tu vuoi mantenere questa power unit ci siamo certi tutti alla domanda power unit 2019 sulla vettura 2020 è come quello che dicevamo prima su per il discorso della potenza Mercedes io mi aspetterei una terza forza a volte seconda con Red Bull a seconda dei Gran Premi e comunque rispetto a quella che è andata quest'anno vabbè quasi quasi onestamente cioè il problema di quest'anno è che proprio hai delle carenze c'è stata un'intervista di Binotto dove l'ha detto l'anno scorso nascondevamo alcune carenze con la potenza l'ha detto lui per cui voglio dire se lo dice lui ci possiamo creare possiamo credere non è un'idea è la conferma ecco voglio dire per cui è chiaro che però come dicevo se proprio deve andare male che vada male quest'anno che si mettano a posto tante cose e non è detto che poi sia così negativo per il futuro perché noi abbiamo visto una Ferrari completamente ferma negli sviluppi per la parte centrale di stagione e dove Binotto è un tecnico non è un politico se tu ascolti quello che dice dice la verità almeno questa è la percezione che ho io e lui a un certo punto ha detto noi non stiamo sviluppando perché stiamo ripartendo da capo dalle variabili base questo è una cosa buona insomma se poi le trovi giuste questi nuovi valori io volevo chiedere a Federico una domanda che faccio praticamente a ogni ospite che abbiamo aspetto pneumatici indipendentemente raccomandata dalla gara in Bahrain che è stata insomma un po' sui generis come valuti il lavoro di Pirelli in questi anni se secondo te vanno cambiata un po' la filosofia non solo diciamo progettuali delle gomme ma anche di interpretazione quindi per esempio la regola della gomma per il taglio del Q2 insomma tu che idea hai di questo aspetto della Formula 1 allora un paio di cose se parliamo il discorso della regola del Q2 ovviamente non dipende da Pirelli sì sì certo però dico certo come va a definire allora è una regola che non ha tanto senso almeno cioè ci sono due o tre regole nati diciamo che la Formula 1 a punto di vista tecnico è regolamentata bene o male ma in una maniera a parte le aree grigie è regolamentata bene dal punto di vista sportivo si cerca di alterare i valori in pista per aumentare lo spettacolo con queste regole ma spesso alla fine si producono gli effetti opposti la regola del pneumatico in Q2 serviva a vantaggiare le squadre dietro invece avvantaggia solo quelli davanti perché poi riescono a qualificarsi con la media solo i più ad esempio solo i più veloci mentre gli altri devono usare tutti la soft per cui queste regole qui o come il parco chiuso che ha un senso ma viene mantenuto anche in caso di pioggia voglio dire che quando una delle due sessioni o la gara o il sabato è bagnata non vedo perché non devono poter toccare la macchina e modificare gli assetti tra una sessione e l'altra e correre e poi ci fanno aspettare i pomeriggi perché a Monza sotto il diluvio non possono girare perché non possono girare con il carico da asciutto in una pista come Monza sotto il diluvio insomma cose che non quelle lì non hanno tanto senso mentre invece sul discorso Pirelli cioè ovviamente è un capitolo enorme però secondo me Pirelli non ha lavorato male anzi è un po' messa in mezzo dalle squadre perché voglio dire qualche anno fa mi ricordo i commenti anche di Alonso su queste cose qua che diceva con queste gomme più piano vai più vai perché dovevi passare c'avevi le gomme morbidissime morbidissime dovevi gestire tutta la gara andare piano andare piano andare piano un po' come fanno a Singapore i primi giri vanno pianissimo e le gare sono bruttissime perché la cosa bella è vederli spingere per cui sono andati più duri sono andati più duri con gomme che le metti su e questi spingono possono spingere come dei matti senza senza grossi problemi hanno cominciato a lamentarsi che fanno pochi pit stop ma voglio dire o l'uno o l'altro esatto io preferisco vedere un pit stop di meno ma i piloti che possono spingere per esempio questo è il gusto mio perché la parte tutto ciò che è gestione si traduce in noia gestione del motore gestione dei consumi gestione delle gomme è bello vederli correre chiaramente nessuno piace vedere andare a passeggio i piloti quindi a ti piace il risultato del 2017 dove con una sosta spingevano fino per tutta la gara secondo me dal punto di vista della guida dello spettacolo era bello perché poi i sorpassi sono belli in pista ieri hanno fatto tre soste a me la gara non è piaciuta non so a voi però voglio dire è stata un confusionaria sorpassi dovuti a delta di mescola da gomma nuova non è che sia così mentre invece dieci giri uno attaccato all'altro con i due piloti che spingono al massimo insomma ma Federico ti chiederei se una cosa lasciando un attimino da parte l'aspetto tecnico a me piace molto andare sulle ma forse sai cosa manca secondo me Giuseppe sei un po' in ritardo secondo me sì è la nostra diretta perché non abbiamo servizi di Amazon Web Services dicevo che mi piace molto portare poi la conversazione su emozioni e sensazioni che fanno parte della forma 1 sono uno degli aspetti più belli tu segui la forma 1 da tantissimi anni quando è morto Sen avevi 11 anni 11 anni sì che situazioni hai provato ieri quando hai visto e stavi guardando magari le telemetrie hai visto qualcosa con Grosjean guarda è una domanda azzeccata nel senso che io ieri avevo io davanti a me i due schermi in cui ho nel riquadro di uno la tv il canale Sky e nell'altro quello grande mi scorrono tutte le telemetrie stavo guardando stavo scrivendo sul messaggio per Matteo Bobby i tempi dello 0-100 ho alzato gli occhi ho visto questo incidente questa palla di fuoco il primo istinto di solito è quello di andare a vedere sui dati cosa è successo lì per lì ho passato 2-3 secondi dimenticandomi che potevo andare a vedere i dati sono rimasto imbambolato poi sono andato a cercare ho scorso i grafici ho visto che Grosjean aveva questo dato che a un certo punto impazziva e per cui ho capito che era lui però è stato pietrificante ho avuto proprio la sensazione di obiettivamente la scena è stata abbastanza terribile la prima percezione che ho avuto io è stato questo forse è tornato non che sia una cosa bella forse è tornato di nuovo un incidente mortale in Formula 1 perché è stato il primo pensiero che mi è passato per la testa per fortuna devo dire non è andata anzi non è per fortuna diciamo che su questo aspetto mi batto un po' tra virgolette sui social in questi giorni perché tanti dicono un miracolo è stata una fortuna c'è gente che titola anche insomma che è stata una botta di fortuna per dirla finemente la fortuna allora però se moriva era sfortuna o forse era che c'erano delle lacune della sicurezza forse invece non è stata fortuna forse i regolamenti tecnici sono fatti bene dal punto di vista della sicurezza forse forse il miracolo sta proprio in quello che per fortuna è un miracolo tecnologico esatto forse è quello cioè qui non è frutto di una casualità è frutto di un processo durato proprio che partì il giorno del primo maggio 94 perché quell'anno fu terribile a parte il weekend di Imola ma c'era proprio questa percezione che le macchine fossero diventate io ricordo facevano incidenti dove alla fine si mettevano in tutti i gran premi delle chicane al centro di rettiline infatti con le gomme per rallentare le macchine perché c'era la percezione di questo rischio ormai fuori controllo insomma poi anche la società si è evoluta non era più il tempo dei gladiatori che morivano nel Colosseo era il momento di passare la sicurezza e quello che è successo ieri è sì un miracolo ma il frutto di un lavoro iniziato quel giorno per 25 anni è un lavoro magistrale magari è stata sbagliata la scelta dell'architettura delle power unit magari sono sbagliate le mescole delle gomme queste cose qui ma per quanto riguarda la sicurezza la Formula 1 è ancora il pinnacle of motorsport come lo chiamano su questo non c'è dubbio si è anche scritto un articolo a riguardo oggi si si ma rimanendo sempre un po' sulle sensazioni tu una volta mi ricordo scrissi un bellissimo pezzo sul nostro sito in cui parlavi delle emozioni che ti danno i numeri e vedere questi grafici che si si formano è che mettono in mostra il talento dei piloti e a volte proprio quegli spunti che non ti aspetti a distanza di due anni credo da quell'articolo forse un attimino meno come sono le cose cos'è che ti emoziona del tuo lavoro qual è la parte più bella di quello che fai a volte diciamo che la parte più bella è quella di riuscire proprio a vedere questi spunti queste particolarità che hanno i piloti adesso tanto per raccontare due o tre aneddoti se vi ricordate la pole di Vettel in Canada due anni fa l'anno scorso 19 no no 18 19 quando che ne avevano fatte sei la Mercedes di fila mi pare poi Vettel aveva rotto quella striscia facendo la prima pole in carriera ecco io mi ricordo che lui uscì dall'ultima chicane in Canada e mi comparsi a schermo mi comparve a schermo il numero della velocità minima che era 7 km all'ora più veloce di tutti i tentativi prima cioè ho avuto ho alzato gli occhi guardando e ho detto oddio sta andando contro il muro lui fece il pelo al muro dei campioni e prese la pole facendo funzione all'ultimo settore cioè vedi proprio questo come il pilota in quel momento dà tutto e di più a spa leclerc fece puon a 286 non mi ricordo che c'è una velocità che lo vedi che c'è una serie di piloti ed in questi ho visto Hamilton il più di tutti poi c'è Verstappen e leclerc che lo vedi che hanno magari una carenza particolare in una qualche curva e poi nel momento che conta di più il Q3 il giro finale fanno proprio lì dove erano carenti la loro la prestazione migliore di tutti ma forse si riesce a vedere sì sì ha imparato a volte sì a volte sì qua c'è la mia domanda collegata dai numeri quanto puoi capire il carattere di un pilota cioè quanto poi guardando i numeri riesci a entrare nella sua testa e capire anche come approcciano i vari stili di guida i vari piloti ad esempio qual è la differenza che ti dai numeri vedi sempre come appunto nelle prestazioni tra Hamilton e Vettel ma Hamilton è estremamente preciso perfetto non so come dire è estremamente è tutto ma allora anche nel 2016 scusami Fede 2016 devo dire che guardavo ma non avevo ancora tutto l'impianto tutto l'impianto ah ok ho cominciato più di recente la però adesso diciamo che quello che vedi di Hamilton è questa è anche questa progressione questa confidenza che acquisisce senza mai esagerare questa perfezione non vedi una un'aggressività particolare ma una grossa è efficace da morire perché lui poi nel giro buono senza strafare ma fa 10 km all'ora in curva più di tutti cioè Vettel è uno che quando ha le condizioni della vettura che gli piace e di testa perché secondo me è un pilota su cui la testa conta allora anche lui è in grado di questi colpi di questi di questi colpi però per esempio Travetter e Leclerc ti posso dire che vedo sempre un Leclerc più aggressivo più scarico aerodinamicamente più alta velocità in rettilineo più contro sterzi più un po' più sporco nella guida rispetto a Vettel è più aggressivo voglio dire o un Verstappen che era esatto la prossima domanda era un Leclerc Verstappen mi hai preceduto beh ti posso dire che Verstappen era un paio di anni fa era altrettanto aggressivo oggi sta diventando gara dopo gara sempre più efficace cioè trova la velocità senza le sbavature poi secondo me c'è anche delle cose che ovviamente è un mondo molto complesso per esempio la Red Bull io ho la percezione che si è disegnata su Verstappen cioè proprio è la sua macchina che come piace a lui punta non so come dire ho capito molto puntata sull'anteriore un po' ballerina esatto cioè la percezione di questa macchina che è proprio fatta su misura su di lui per cui sì diciamo che poi cominci a vedere diciamo che è praticamente soddisfazione quando vedi questi queste cifre ti rendi conto di un aspetto particolare pilota e poi magari senti il team radio che lo conferma allora quello è proprio oppure è stata una scena una scena che lì diciamo è stato proprio bello perché al Mugello l'ultimo giro in qualifica a un certo punto mi accorgo che in rettilineo andavano tutti tra 3 e 5 km all'ora di meno guardavo perché ho i riferimenti che mi rimangono a schermo e mi si abbassavano tutti ho scritto a Bobby Matteo ma non è che c'è il vento che è aumentato perché sul rettilineo principale perché come mai uno o due ma tutti tutti lui lo dice forse Carlo ha aumentato il vento perché con la sua giù Hamilton scende dalla macchina gli metto il microfono avanti e dice l'ultimo giro del Q3 è un casino perché nel Main Street avevo il vento in faccia e io tipo ero a casa che saltavo come se avesse fatto il golf io l'avevo detto io sapevo tutto ma Federico se posso fare l'ultima domanda dati alla mano qual è attualmente il pilota più forte dati alla mano è Hamilton sì cioè tu che guardi Davide Galli sui go-kart lui è in arrivo a 1 mi parla in generale no niente è sempre l'ambito formula 1 niente a parte Davide Galli che è inarrivabile sì poi fargli studiare i dati la prossima volta che ci capita di andare Davide glieli portiamo e vediamo cosa ci tira fuori glieli girerò occhio al vento però esatto ma il chiuso non è non so a quanto momento ci possa essere mica ci sono le piste solo al chiuso dai no beh certo il primo Valdegra avevamo andato era indoor comunque sì nel complesso ora come ora direi è il pilota più completo ma anche sotto tanti punti di vista non ha mai un momento di bassa nella stagione anche ieri ha fatto una gara da solo due partenze non ne ha sbagliata neanche mezzo guardando i dati dello 0 a 100 la prima partenza lui è stato il più veloce di 20 a partire cioè non è che abbia tutta questa necessità no voglio dire eppure e se ascolti team radio ho sentito insieme da voi dice chiede anche via radio ma ero rispetto al target la performance dello start era buona e Bono gli dice sì sì era buona se eri giusto non si accontenta mai ha una fame io credo che lui insegua i record anche se dice di no perché io non vedo cos'altro gli possa dare una motivazione a spingere così come un dannato ogni giro di tutte le gare ma infatti Fred mi hai anticipato la domanda può essere la partenza dello 0 a 100 forse il valore principale per analizzare l'abilità del pilota perché forse le vetture la differenza delle vetture si cominciano a sono simili le vetture in partenza è un punto interessante chiaramente è un'abilità io credo che sia è come se fosse una disciplina a parte la partenza cioè il giro di pista e poi c'è la partenza perché la sensibilità la frizione il non stallare non far patinare le posteriori per cui io la vedo come una una sottodisciplina della formula 1 cioè un mondo a parte anche lì Hamilton si citava al 2016 non avevo i dati allora ma quante volte partì male e Rosberg lo infilò adesso io non mi ricordo ma anche ma anche nel 2017 quando ci fu la battaglia tirata con Sebastian Vettel quando Vettel andava in prima fila spesso e volentieri la prima curva passava prima perché partiva meglio oggi non mi ricordo di una partenza sbagliata di Hamilton negli ultimi due anni onestamente poi devo dire che c'è un discorso con Mercedes e Hamilton che secondo me loro fanno errori se messi sotto pressione ma hanno un vantaggio tale che non li mette mai sotto pressione quasi nessuno per cui poi questi errori non li vediamo esattamente va bene andiamo se c'è Giuseppe abbiamo ancora Giuseppe quindi possiamo chiudere qua questa nostra chiacchierata ringrazio veramente Federico perché comunque avendo a disposizione tutti questi dati dopo insomma ti abbiamo spremuto a dovere con tutte le nostre curiosità grazie ancora per averci risposto grazie a voi a presto e con me come ho detto prima c'era con Giuseppe ciao Giuseppe se vuoi fare un saluto si ringrazio Federico ringrazio tutti gli appassionati che ci hanno seguito grazie buona serata Matteo quattro occhi se vuoi fare lo stesso assolutamente è stato un piacere essere ancora qua con voi intanto ti dico un po' sullo stile Hamilton Tommaso my Giuseppe is gone cioè l'abbiamo perso ancora mi sa oggi con le connessioni è stato spettacolare purtroppo oggi abbiamo avuto qualche problema è il bello della diretta abbiamo avuto tanto peso cioè le parole di Federico erano talmente di valore che non riuscivamo a tenere tutto nella stessa videochiamata vabbè il bello della verità ce n'erano due a questo punto di Giuseppe erano in sei in un certo momento esatto e poi ovviamente ringrazio anche Davide per averci comunque aiutato perché comunque effettivamente il lato più di sensazioni e di emozioni della Formula 1 comunque è un lato che va sempre eh valorizzato ecco perché la Formula 1 non è solo tecnica e soprattutto è tanta tecnica per me è la parte più bella la parte più bella sono le sensazioni e le emozioni che si provano vedendo i Gran Premi esatto penso che anche Federico su questo sia d'accordo assolutamente poi alla fine se è un ingegnere è anche qui ci possiamo fidare d'accordo io ringrazio il nome di tutti quanti coloro che hanno visualizzato la puntata che hanno ascoltato e anche coloro che ci hanno posto delle domande perché insomma ci fa sempre piacere vedere partecipazione nelle nostre puntate a breve questo episodio sarà disponibile su Youtube e sulle piattaforme di podcast e vi ricordo l'appuntamento con domenica prossima per il Gran Premio del Sakir se non mi ricordo male dove ovviamente commenteremo commenteremo dopo la gara cioè gli eventi principali grazie a tutti e buona serata ciao a tutti ragazzi ciao ciao